21 arriva da lontano perché è un omicidio che avviene in delle parti del mondo diverse contemporaneamente. Ogni persona, ogni vittima ha sulla pelle un marchio che è uno strano tatuaggio che ricorda tantissimo una carta dei tarocchi, però il suo numero 21 non coincide con questa carta dei tarocchi che assomiglia ad un'arpia. Questi stranissimi indizi portano grazie al tempo moderno, cioè al web e a internet, a ricondurre tutto a un illusionista che sta lavorando in quel momento a Las Vegas, che quindi non potrebbe essere fisicamente l'assassino, però tutti gli indizi riconducono a lui. Da lì comincia 21, che è questo mio primo thriller un po' diverso da quello che dovrebbe essere un thriller classico perché ho cercato di non dare una forza, una violenza agli assassini o la loro descrizione, ma ho cercato di dare un gioco di prestigio lungo per tutta la durata del libro con un minimo di liricità all'interno della struttura del romanzo. C'è una caratteristica di 21 molto particolare, il protagonista non esiste, è il male, il male impersonificato, però come in tutte le cose il male produce qualche cosa, un angolo, uno spigolo di bene ed è proprio il protagonista dei prossimi libri, se mai verranno, che è questo capitano di polizia, ex capitano non vedente, cieco, quindi capace, l'unico capace di sbrogliare la matassa di un trucco lungo un libro proprio perché non si fa ingannare dalla realtà, perché lui è un non vedente quindi ha la sua realtà.